Scoprite l'antica Genova e i suoi segreti. Prendete parte a una cena in puro stile medievale, accompagnati da noi Cavalieri Templari, nel chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, con giocolleria e combattimenti infuocati in puro stile medievale. Abbiamo deciso di intitolare questo evento al Desco dei Crociati, proprio perché da Genova partirono i militi della prima crociata, i Cavalieri che andavano in Terra Santa a difendere i nostri pellegrini. Sarà un evento a scopo benefico unico e spettacolare, un evento al quale non potete mancare. Il tutto a favore del Fondo Malattie Renali del Bambino Onlus, presso l'ospedale Giannina Gaslini di Genova. Grazie. 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 Grazie.